Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Eccellenze in Sanità. Oggi andiamo a Cremona e incontriamo il dottor Verde, un altro specialista che si occupa sempre di pazienti fragili e multitrattati che hanno necessità degli anticovolanti orali diretti. Andiamo a vedere. Dottore, da mesi abbiamo iniziato questo lungo cammino di informazione sul tema degli anticoagulanti orali diretti. Tanti specialisti, proprio per Eccellenze in Sanità, hanno aggiunto tasselli a questa tematica. Oggi siamo a Cremona e incontriamo lei. Innanzitutto richiederei di presentarsi. Sì, mi chiamo Simone Verde, lavoro presso l'ospedale maggiore di Cremona, sono un cardiologo e mi occupo di clinica e interventistica in elettrofisiologia. Che territorio hai, Cremona? È un territorio che accoglie molti pazienti provenienti da una provincia molto vasta. Sono pazienti generalmente che vengono da noi fidandosi ovviamente della nostra professionalità. Cremona è una città piccola della Lombardia, però ha delle caratteristiche che sono quelle di essere una città agricola sostanzialmente con delle eccellenze e per cui è una città a misura d'uomo. Dottore, nella sua pratica clinica quali sono i pazienti a cui prescrivo una terapia anticoagulante e su cosa basa la sua scelta? Beh, una premessa va fatta. I nuovi anticoagulanti orali, il mio oral anticoagulante o anticoagulanti diretti, sono entrati in commercio in Italia dal 2013. Sono farmaci innovativi perché rispetto alla precedente terapia anticoagulante, che tuttora è ancora valida per certi pazienti, si basa diciamo su una inibizione diretta dei fattori della coagulazione. Ovviamente chi è che è elegibile? Sono elegibili tutti quei pazienti che hanno determinate patologie per i quali è prescrivibile questi nuovi anticoagulanti orali. Sono ovviamente pazienti con la fibrillazione atriale non valvolare, nella fattispecie pazienti che però non abbiano delle protesi valvolari meccaniche, cardiache o che non abbiano una stenosi valvolare mitralica severa. Sono terapie ovviamente che vanno portate a lungo termine, quindi occorre una terapia a lungo termine e quindi la scelta del paziente deve essere ritagliata a misura in base alla tipologia di paziente che abbiamo di fronte. Ci sono degli accorgimenti da considerare per una tipologia di pazienti, pazienti anziani con comorbidità, quindi multitrattati, che abbiano insomma delle problematiche quando vengono usati gli anticoagulanti orali diretti? Certo, come dicevo prima la scelta del paziente va vista nell'ottica di un paziente che generalmente è un paziente con una politerapia, pazienti anche anziani, pazienti che hanno spesso un peso corporeo al di sotto del range che viene considerato da scheda tecnica per la scelta anche dei dosaggi. Sono pazienti che anche per lo stile di vita hanno bisogno anche di una terapia personalizzata e quando parlo di terapia personalizzata intendo dire scegliere l'anticoagulante che per dosaggio ma soprattutto per numero di somministrazioni sia più adatto per poter essere non solo sicuro ma anche efficace per quel paziente. Considerando che la terapia anticoagulante è per la fibrillazione atriale per tutta la vita, quanto può diventare determinante il tema dell'interazione e dell'aderenza nella valutazione della sicurezza di un anticoagulante orale diretto? L'importanza dell'aderenza alla terapia prima di sottoporso ad una procedura, ad esempio di cardioversione? Sì, diciamo che è importante perché questi pazienti hanno spesso plurimeterapia, sono pazienti con politerapia legate alle loro patologie associate, per cui la scelta del nuovo anticoagulante orale deve essere fatta anche in funzione di questo, le interazioni farmaco-farmaco possono creare anche dei grossi problemi. Ecco allora che l'ultimo arrivato peraltro dei nuovi anticoagulanti orali rispetto agli altri tre può avere anche delle caratteristiche che meglio si abbina al discorso di interazioni. Quando parlo di interazioni parlo anche di pazienti che fanno uso di multivitaminici, rimedi naturali, ma anche chemioterapici, ma anche farmaci che nello specifico potrebbero essere, con i nuovi anticoagulanti orali, creare delle interazioni. Dottore, cardioversione, ma che cos'è? Quando, come e chi? Allora, quando parliamo di cardioversione bisogna specificare di cosa parliamo. Esiste una cardioversione farmacologica e una cardioversione elettrica. La cardioversione farmacologica è quella che utilizzando dei farmaci in vena, generalmente in vena, permette al paziente che è in fibrillazione atriale o comunque ha un'aritmia in corso di poter resettare il proprio status elettrico in un ritmo regolare, un ritmo che noi definiamo sinusale, cioè un ritmo ben regolare e con una frequenza stabile. Quando utilizziamo i farmaci abbiamo la necessità di avere una terapia anticoagulante alle spalle del paziente, cioè se il paziente stia già assumendo una terapia scoagulante, perché il rischio della cardioversione è quello di portare sì in ritmo il paziente, ma se il paziente non è adeguatamente scoagulato, il rischio è che ha un beneficio tecnico, cioè legato proprio alla riuscita della cardioversione, segue poi un danno, un danno neurologico legato a un cardioembolismo ischemico cerebrale. Ecco allora che la terapia anticoagulante in questo caso è fondamentale che sia già assunta da tempo da parte del paziente. Quando invece parliamo di cardioversione elettrica ci avviciniamo più a una procedura un po' più invasiva, un po' più cruenta, anche se di fatto dura poco e al paziente non lascia sequele. È una scossa elettrica che viene erogata in condizioni in cui il paziente emodinamicamente non tollera questa aritmia, ma la cosa fondamentale è che la si può fare quando il paziente o ha una aritmia, una fibrillazione elettriale che è insurta da poche ore, noi consideriamo le 48 ore il limite massimo di sicurezza, per il discorso sempre che ho fatto del rischio cardioembolico, oppure che abbia già una terapia anche lui anticoagulante alle spalle. Ecco che allora sapere nel caso dei nuovi anticoagulanti orali che il paziente assume già una terapia anticoagulante in maniera regolare ci permette in tutta sicurezza di poter praticare o l'una cardioversione farmacologica o l'altra la cardioversione elettrica. Quali sono i pazienti che ritiene più a rischio di scarsa aderenza e come si comporta in questi casi? La scarsa aderenza che noi definiamo ridotta compliance del paziente è quella situazione per il quale il paziente o dimentica di assumere regolarmente il farmaco o sottostima la gravità della sua patologia e quindi non lo assume o lo assume in maniera irregolare oppure non lo assume in maniera corretta. Intendo dire che ci sono dei farmaci che vanno assunti anche durante il pasto, altri che possono essere assunti anche lontano dal pasto e questo è importante. Ecco allora chi è il paziente più a rischio di non aderenza. Generalmente noi ci siamo resi conto come il paziente anziano, il paziente con defici cognitivi, ma anche pazienti che hanno uno stile di vita molto frenetico, parliamo quindi di persone che lavorano anche 8, 9, 10 ore al giorno, abbiano necessità di avere una terapia comoda ad assumere. Quindi la monosomministrazione in certi pazienti è preferibile alla doppia somministrazione che i nuovi anticoagulanti orali nelle quattro molecole presentano in maniera differente. Di sotto ci riferiamo sempre a pazienti anziani, eccetera, ma lei parlava di persone che lavorano 8, 9 ore al giorno, quindi sono problemi che possono arrivare a qualunque età. Certo, ovvio che nel ventaglio di pazienti che ci troviamo a dover gestire, abbiamo anche persone che lavorano in maniera, non dico H24, ma che lavorano spesso tutto il giorno dalla mattina alla sera e quindi avrebbero proprio bisogno nel caso di una prescrizione di nuovi anticoagulanti orali di avere una terapia più comoda e più gestibile per non incorrere appunto nelle famose dimenticanze o irregolarità di assunzione del farmaco. Nella sua pratica clinica in quale tipologia di paziente preferisce utilizzare un dosaggio ridotto? Con quale obiettivo? Quanto le evidenze scientifiche disponibili all'uso dei bassi dosaggi nei trial sopportano le sue scelte terapeutiche? Allora, la questione del dosaggio è una questione importante. Le schede tecniche dei quattro anticoagulanti orali sono molto chiari in questo senso. Ci sono dei criteri da seguire per poter raggiungere l'obiettivo di poter somministrare in massima efficacia e sicurezza il basso dosaggio e di questo ci avvaliamo dei trial, dei trial registrativi che ci dicono ad esempio che un anticoagulante rispetto a un altro è più sicuro e più efficace nel basso dosaggio per poter prevenire i rischi che le quattro patologie di cui mi sono soffermato, di cui adesso ricordo l'indicazione, ovvero la fibrillazione atrale non valvolare, la profilarsi del tromboblismo venoso, la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare richiedono. Per cui il dosaggio ridotto sì, ma in pazienti che abbiano però la possibilità, le caratteristiche per poter beneficiare del basso dosaggio sulla base delle note scientifiche e dei trial registrativi che ce lo confermano. Quindi sempre a discrezione dello specialista? A discrezione assolutamente dello specialista e ripeto con una interazione col paziente capendole anche quali sono le problematiche di salute e quando si parla di terapia anticoagulante una fondamentale cosa da ricordare è la funzionalità epatica e renale di questi malati. Sicuramente il metabolismo di questi nuovi anticoagulanti orali seguono delle vie che sono quelle epatiche renali nelle varie tipologie di anticoagulanti per cui è importante conoscere prima di prescrivere il nuovo anticoagulante orale sapere com'è la funzione di questi due organi. in conclusione degli incontri lei ha già spiegato bene tutto però io sempre faccio una richiesta può fare delle raccomandazioni rispetto all'età del paziente rispetto al luogo dove si trova sei in un piccolo paesino di montagna in una grande città vicino al nosocomio sei circondato da persone che lo aiutano nelle terapie insomma che raccomandazioni che consigli può dare? Beh questa è una categoria di pazienti parlo dei pazienti che vivono ai confini della città o che magari vivono in situazioni per le quali l'ospedale non è vicino, per le quali vivono da sole che sono poco supportati dall'ambiente familiare o che non hanno familiari e li possono gestire ecco la raccomandazione è comunque quella di affidarsi a uno specialista e di seguire nel loro iter di terapia le raccomandazioni che noi diamo è ovvio che sono pazienti in parte fragili in parte con queste problematiche anche diciamo di abitudini di vita e di luogo dove vivono per cui da noi Cremona è una città ripeto che ha un nucleo di città ma molta diciamo provincia è ovvio che spesso ci troviamo di fronte a dei pazienti che provengono dall'interland chiamiamo della città attorno alla città e che hanno per cultura e per diciamo anche mentalità un po' quella di sottostimare a volte le patologie o la gravità di alcune patologie è compito del medico, dello specialista nello specifico per la prescrizione di questi nuovi anticoagulanti orali spiegare bene al paziente qual è il beneficio del farmaco, del perché viene prescritto del beneficio che a lungo termine potrà dare al paziente grazie per essere stati con noi ma grazie soprattutto per l'attenzione che riservate non solo a questa trasmissione eccellenza in sanità ma a tutte le nostre produzioni come Pianeta Salute, più Salute News, la voce del paziente perché in effetti da anni avete compreso che vi portiamo direttamente gli specialisti che spiegano le problematiche della nostra salute arrivederci quindi ad uno dei prossimi appuntamenti e grazie Grazie a tutti Grazie a tutti